Riparte anche quest'anno il progetto di teatro inclusivo promosso da Erone Produzione e Teatro Pubblico Campano in sinergia con il comune di Rocca Piemonte. Questa iniziativa permetterà agli anziani meno ambienti della città di poter assistere gratuitamente agli spettacoli di scena all'Auditorium Sant'Alfonso di Pagani. Il progetto, nato con l'obiettivo di favorire l'accesso alla cultura a tutti, si propone di garantire un'opportunità di svago e di crescita culturale anche per chi si trova in condizioni di disagio economico. Primo appuntamento di questa edizione con lo spettacolo di Peppe Iodice. Il sindaco di Rocca Piemonte, Carmine Pagano, si è detto entusiasta di poter offrire quest'opportunità ai cittadini più svantaggiati e ringraziato gli enti coinvolti nel progetto per l'impegno e la sensibilità dimostrati nei confronti della comunità. È un'iniziativa che ormai stiamo seguendo da anni, grazie ovviamente ai responsabili del teatro di Pagani e lo faremo anche quest'anno. Mi dispiace che solo per due spettacoli, però anche questo è sufficiente per poter dare un attimo di distrazione a soggetti che sono le cosiddette fasce deboli, in cui ovviamente rientro anche io, per cui cercherò di essere presente pure io a questo tipo di spettacolo.